Valerio Verre, grande entusiasmo con i tifosi, si avvicina il Natale ma si avvicina anche il derby di sabato prossimo a Lanciano. Si avvicina il Natale ma adesso non ci stiamo pensando perché ci sono tre partite fondamentali e le dobbiamo chiudere con il massimo impegno e i più punti possibili. Siamo concentrati sul lavoro e dobbiamo fare bene. Tempo di bilanci, siamo a fine anno, quasi alla fine del girone d'andata. Per Verre è stato un girone d'andata sicuramente positivo. Io guardo prima la squadra, preferisco che la squadra faccia più punti possibili in queste tre partite, poi al di là del singolo vedremo. Se vogliamo trovare un po' il pelo nell'uovo per te è qualche occasione mancata in zona gol, ci sei andato vicino in diverse occasioni però sei riuscito a segnare una sola rete. Sì, è poco per me. Spero di farne altre, aiutare la squadra. Sicuramente personalmente preferisco farne di più perché comunque ci arrivo sotto porta quindi devo migliorare in quella. Valerio, torniamo un attimo a parlare del derby di sabato. Incontrerete una squadra penultima in classifica che sarà obbligata a vincere. Quali le insidie? Le insidie ci sono, sono tantissime perché è una squadra, è un derby innanzitutto e quindi sarà già un clima molto difficile. Noi andremo lì sapendo che loro daranno ancora di più rispetto alle solite gare ma noi siamo fiduciosi. Grazie.